Un bellissimo ritorno a Chieti, quello del quinto concorso di eleganza di auto d'epoca con l'All Motors Club d'Abruzzo che ha rinnovato anche i vertici alla Presidenza, c'è nuovamente un tiatino di esperienza e siamo davvero molto felici che si possa tenere queste due giorni nella nostra città coinvolgendo tanti appassionati di auto storiche, ci sarà una grande partecipazione e Chieti sarà nuovamente protagonista delle auto d'epoca, in questo caso delle auto Yantimer anni 80 anni 90 La manifestazione si svolgerà sabato mattina a Chieti dalle 10 in poi ci saranno 45 vetture degli anni 80, 90 e primissimi anni 2000 dalle più piccole di quel periodo, quindi dalla Y10 Turbo, 1 Turbo, Renault 5 GT Turbo fino ad arrivare alle supercar, quindi Ferrari Testa Rossa, Ferrari F40, Lamborghini Diablo eccetera Le vetture saranno giudicate da sei giudici molto importanti, il Presidente di giuria è il Professor Paolo Tuminelli che arriva direttamente da Monaco, è già stato Presidente di concorsi di eleganza come quello di Villa d'Este poi ci sarà Marcello Mereo che è il deteller più famoso che abbiamo nel nostro paese il deteller personale di La Poelcan e di Garage Italia poi abbiamo il Pietro Camardella che è il designer della Pininfarina che ha disegnato la Ferrari F40, il restyling della Testa Rossa, della 456 e di tante altre poi abbiamo il teatino Domenico Formichetti, blogger nel campo della moda famoso ormai nella moda milanese, teatino doc che ho visto crescere appassionato di auto verrà tra i sei giudici ci sarà l'inviato di ruote classiche che patrocinia questa iniziativa che è Nanni Cifarelli, già detto stampa dell'Asi e poi verrà appositamente tra Sicilia il Vice Presidente dell'Asi che sarà tra i giudici le manifestazioni si svolgeranno all'interno della Villa Comunale per sfilare appena i giudici daranno il verdetto lungo Corso Marruccino nella serata intorno alle 19 Corso Marruccino